Sindaco, Commissione sullo stadio, calda, accesa, come sarà probabilmente anche il Consiglio Comunale, tanto che si è arrivati anche a un'ipotesi di rinvio. Intanto la Commissione ha approvato e quindi il Consiglio ad oggi si svolge il 30 settembre, perché la volontà non può che essere quella, tra l'altro anche sulla base di un accordo che al momento prevede anche delle tempistiche, ma anche perché credo che si sia chiarito tutto, si siano chiariti tutti gli aspetti, anche la Commissione di oggi è stata giustamente calda, però credo che chi ha assistito alla Commissione avrà percepito come tutti gli elementi fondamentali siano emersi, siano chiari, non c'è null'altro da aggiungere e soprattutto la bontà di questa scelta politica che è emersa veramente con grande chiarezza, la risoluzione consensuale. Se da parte dell'opposizione, che ha richiesto il rinvio in alcune sue parti, c'è la volontà di un ulteriore approfondimento, confronto, finalizzato ad arrivare ad una posizione condivisa su questa scelta politica, che è, ripeto, importante e decisiva per la nostra città, non è mai mancata l'apertura, il Presidente del Consiglio farà giustamente e correttamente le sue valutazioni con i capigruppo. Intanto la notizia è che la Commissione oggi ha approvato la proposta di delibera e quindi è pronta per andare in Consiglio, quindi non c'è bisogno più di altre votazioni della Commissione, però se ci sarà la possibilità di ulteriori approfondimenti, con chiarezza e senza strumentalizzazioni, perché oggi abbiamo assistito a una Commissione dove c'è stato anche un dibattito acceso, ma dove si sono posti i temi, a questo punto il Presidente del Consiglio valuterà serenamente con i capigruppo, fermo restando che la tempistica deve comunque essere stretta, quindi nel momento il 30 settembre e se dovesse esserci un ulteriore approfondimento non potrà che essere solo di qualche giorno. A questo proposito, a proposito del Consiglio, insomma di tutto quello che si è detto oggi, il cardine della discussione, lei lo ha sottolineato, è quello poi evidenziato dall'Avvocato Campana in collegamento, se salta questo accordo in Consiglio Comunale rischiamo un lodo arbitrare enormemente più gravoso. Infinito e gravoso, di un contenzioso ovviamente che può non avere, non ha una soluzione certa, ma sulla base della Convenzione i valori sono quelli previsti dalla Convenzione, quindi decisamente superiori rispetto ai termini della... Sì, non c'è stata proprio una quantificazione precisa, però si ragiona in quell'ordine, segno del fatto che la scelta politica, perché non è una scelta che in questo caso subiamo, è una scelta che vogliamo portare avanti sulla spinta della città, di riappropriarci della gestione sportiva piena dello stadio, di aprire un confronto e un accordo risolutivo, consensuale con la parte privata, una scelta vincente in cui siamo noi a governare il processo e tra l'altro dal punto di vista dell'equilibrio finanziario si tiene, perché è un'operazione che come è stata riportata anche correttamente è un'operazione neutra, perché comunque abbiamo strutturato un accordo sulla base del quale quello che viene pagato a titolo di indennizzo rientra attraverso degli obblighi e degli impegni legati appunto al pagamento dei canoni di locazione esistenti e quelli futuri su cui c'è un contratto che è stato già previsto e allegato alla delibera. Quindi è un'operazione che dal punto di vista economico finanziario si tiene, ha tutti i pareri favorevoli, compreso quello dei revisori, e non è secondario, perché se fosse stata un'operazione rischiosa per il Comune o non sostenibile sotto l'aspetto economico finanziario, i tecnici del Comune, gli avvocati, la parte tecnica, i revisori legali lo avrebbero puntualmente espresso. Così non è, anzi viene riportato l'interesse pubblico che è sotteso a questa scelta. Oggi abbiamo un'occasione veramente non ripetibile, nel senso che in passato non era possibile, sebbene magari chi mi ha preceduto volesse farlo, ma non c'erano le condizioni, oggi le condizioni ci sono e possiamo veramente porre fine ad una gestione della parte sportiva dell'impianto Bonolis che nel corso di questi anni ha creato enormi problemi e soprattutto ne creerà ancora, perché rischiamo di rincorrere continuamente il privato, chiunque sia, per quanto riguarda l'equilibrio economico finanziario. Ci assumiamo la responsabilità per il bene della città e nell'interesse pubblico di mettere fine a questa concessione, di risolverla consensualmente con il privato ed aprire una nuova fase.